Era il lunedì e un quarto, il lunedì e un quarto, il lunedì e un venti, si tornava a casa l'autovettura di servizio quando in prossimità dell'abitazione del collega, tutto bene, ci aspettavano due brigatisti, anzi forse più di due, una a sinistra e una a destra, che a fuoco incrociato spararono all'impazzata. Io, l'occhio è un obiettivo, vedo come in un film l'immagine di questo brigatista con la parrucca, con il volto tirato, con il vestito, con un giacone, con il collo di agnellino in particolare, che sparava all'impazzata verso di me. Lo spirito di conservazione mi buttai tra i sedili della macchina e mi salvai. Purtroppo una palotta mia entrò vicino alla tempia e passò direttamente il setto nasale, vicino alla vina giacolare, però la vita, il miracolo veramente. E il racconto commosso dei fatti del 25 gennaio 1980, il generale Luigi Ramundo, originario di Casal Ciprano e di servizio a Genova con due colleghi, il tenente colonnello Emanuele Tutto Bene e l'appuntato Antonio Casu, quando vengono travolti da una raffica di proiettili. Siamo negli anni di piombo e questo è l'ennesimo attentato delle Brigate Rosse. I due passeggeri muoiono sul colpo, Ramundo resterà cieco ad un occhio, riceverà la medaglia d'oro al Valor Civile e continuerà a prestare servizio con onore. A 33 anni di distanza da quegli eventi, l'alto ufficiale ha fortemente voluto che nel Museo a cielo aperto di Casal Ciprano venisse eletto un monumento che ricordasse i caduti di tutte le guerre, accostato a quello preesistente, dedicato ai combattenti che hanno perso la vita durante la Prima Guerra Mondiale. Tra le due guerre, Casal Ciprano ha perso ben 46 cittadini e il Comune ha ben accolto la richiesta di questo ex carabiniere, a cui ha conferito anche la cittadinanza onoraria. Dal 2008 è stata istituita a livello nazionale anche la giornata della memoria dei caduti, che include, oltre a coloro che sono deciduti in guerra, anche le vittime di mafia, terrorismo e stragi. Il monumento inaugurato a Casal Ciprano è stato progettato a titolo completamente gratuito dall'architetto Nicola Guglielmi ed è stato realizzato grazie a donazioni private degli abitanti e di residenti all'estero. Alla cerimonia era presente anche il presidente della provincia di Campobasso, De Matteis, che ha sottolineato l'importanza di celebrare la pace e di ricordare valori fondamentali come uguaglianza e rispetto. Il sindaco di Casal Ciprano, Eliseo Castelli, ha voluto invece ricordare per il loro grande impegno due suoi predecessori che nell'arco di mezzo secolo tanto hanno fatto per il paese. Giovanni Lombardi, recentemente scomparso, che è stato in carica per 29 anni, e Franco Miranda, sindaco per 20 anni, che ancora oggi, come da sempre, rivaluta, arricchisce e promuove il paese. Il generale Ramundo, emozionato e commosso, ha spiegato la scelta di un evento del genere nel paese in cui ha vissuto fino alla sua maggiore età, citando Cesare Pavese. Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti.